Buongiorno ragazze e ragazzi, state scegliendo il vostro percorso universitario e dove studiare. Se siete qui è perché vi interessa conoscere l'Università di Pavia e sentire da chi l'ha frequentata prima di voi com'è andata. Sono Chiara Garofoli e sono stata matricola di giurisprudenza nel 1997. Sono passati ovviamente moltissimi anni, ma i motivi per cui ho scelto di iscrivermi a giurisprudenza Pavia allora valgono ancora oggi. La sua reputazione, la tradizione di eccellenza, i rapporti con università straniere, il sistema dei collegi, io sono stata luna degli ghislieri e in generale la vita in una città universitaria. Oggi sono Senior Legal Counsel di Google, azienda in cui sono entrata nove anni fa. Dopo alcuni anni nel Dipartimento Legale Italiano, oggi lavoro in un team internazionale. Mi occupo di questioni giuridiche di massima attualità. Alcuni dei casi di cui mi occupo raggiungono la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e seguo anche alcuni procedimenti davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dall'anno scorso, oltre a supportare diversi paesi europei, supporto anche l'Australia e diversi paesi dell'Abbia. Prima di entrare in azienda sono stata avvocato specializzato in proprietà intellettuale in alcuni grandi studi legali milanesi. Mi piace ricordare come il primo studio legale con cui ho iniziato a collaborare mi contattò fresca di laurea dopo aver trovato il mio curriculum in Vulcano da banca dati dei laureati dell'Università di Pavia. Banca dati da cui già in precedenza aveva attinto con grande soddisfazione. Tornando agli anni universitari, ho ancora vividi ricordi delle lezioni tenute dai miei professori, delle aule che ho frequentato, delle biblioteche in cui ho studiato, ma anche delle partite di calcetto organizzate tra il corso di Filosofia del Diritto e il corso di Teorie Generali del Diritto, di un arbitrato simulato, svolto a conclusione di un corso sugli arbitrati internazionali e ancora a seminari tenuti da relatori stranieri organizzati da alcuni dei nostri professori. A Pavia ho ricevuto una preparazione di eccellenza. Oltre ai corsi fondamentali, ho poi potuto scegliere tra un'ampia serie di corsi complementari in base alle mie inclinazioni e preferenze. Sono stata felicissima di poter seguire insegnamenti di respiro internazionale, da sistemi giuridici comparati fin dal primo anno a Diritto del Commercio Internazionale e ancora Diritto delle Organizzazioni Internazionali, Diritto Processuale Civile Comparato e ovviamente Diritto Internazionale e Diritto dell'Unione Europea, la materia in cui mi sono laureata. Ho partecipato al programma Erasmus e trascorso alcuni mesi all'Università di inizio, mentre raccoglievo materiale per la mia tesi. Come ho ricordato prima, dopo la laurea ho iniziato a lavorare grazie a Vulcano, la banca dati dei laureati dell'Università di Pavia. Successivamente, la preparazione ricevuta a Pavia mi ha permesso di accedere a un master all'Università di Landage. Concludo condividendo con voi che alcuni dei miei colleghi di studi a giurisprudenza oggi sono magistrati, professori in università italiane e straniere, soci di importanti studi legali, funzionari pubblici, imprenditori, a dimostrazione delle molteplici opportunità cui la laurea in giurisprudenza conseguita a Pavia ci ha preparato.